Dopo cinque giorni di tentativi ostacolati da bufere di neve e dal forte vento, sono state finalmente recuperate ieri pomeriggio le salme di Giovanni De Giorgi, 26 anni, di Galatone, nell'Eccese, e Massimiliano Cassa, 29 anni, di Corato, nel Barese, precipitati venerdì scorso sul Gran Sasso durante un'escursione. Si è trattato di un'operazione complessa, eseguita quando le condizioni meteo lo hanno permesso, dall'elicottero della Forestale, da unità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e dai reparti del nono reggimento alpini della Brigata Taurinense dell'Aquila, giunti ai prati di Tivo sul versante terramano del Gran Sasso, e salutati dagli alpini del nono reggimento, che con Massimiliano Cassa e Giovanni De Giorgi avevano condotto numerose missioni dell'esercito in patria all'estero, soprattutto in Afghanistan, i genitori e i parenti potranno riabbracciare i loro cari e soffermarsi con loro nella camera ardente allestita all'interno della caserma Pasquali all'Aquila.